Anche io vorrei dire qualcosa. Far sorridere le persone. Far sorridere le persone è sempre stato il sogno di Frank e per questo vorrei che oggi sorrideste tutti quanti perché so che è quello che lui avrebbe voluto. Nella sua vita Frank... Frank ha fatto una marea di sciocchezze, chi può negarlo? Però sono proprio quelle sciocchezze ad averlo reso così speciale. E sono proprio quelle sciocchezze la cosa che più ci mancherà di lui. Sapete io a quel ragazzo l'ho... l'ho amato. L'ho amato veramente tanto anche se... anche se lui è... e vi giuro che mi dispiace dirlo davanti a tutti quanti però... lui aveva un pisello minuscolo. Lui... aveva un... pisello così piccolo che... che avrebbe potuto indossare il tank all'incontrario. Era... era un... un pisello così piccolo che mi ricordo che la prima volta che lo vedi pensavo fosse ancora un pisello da latte. era così piccolo che a volte veramente pensavo potesse trasformarsi in varvola. Ragazzi, Frank ci mancherà. a me... a me mancherà tutto di lui tranne purtroppo il suo pisello di cui non ho mai realmente avvertito molto la presenza. Grazie.